Oltre 571 milioni di euro messi a terra nel mondo agricolo abruzzese per sostenere 50.000 aziende in 5 anni di governo e di attività del settore regionale legato all'agricoltura, fatto che ha movimentato alla fine oltre un miliardo di investimenti. Il vicepresidente della Regione, con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente, assieme all'autorità di gestione del PSR Abruzzo, Elena Asico, direttore del Dipartimento Agricoltura, ha presentato i dati relativi all'andamento della spesa al 31 dicembre 2023. In relazione ai fondi europei del programma di sviluppo rurale 2014-2022, del complemento per lo sviluppo 2023-2027, del fondo per lo sviluppo e la coesione del PNRR, dei finanziamenti erogati nell'ambito dell'Organizzazione Comune dei Mercati e del Fondo Europeo Affari Marittimi, Pesca e Agricoltura. Noi abbiamo messo a disposizione, o meglio, messo nelle disponibilità finanziarie, quindi a terra, alle nostre aziende, circa 571 milioni di euro, che sono tanti soldi, che sono frutto circa 454 milioni per il PSR, abbiamo per gli interventi specifici di settore come gli OCN 60 milioni, abbiamo fondi collegati con l'FSC per 42 milioni e abbiamo poi altri fondi che saranno a disposizione per il PNRR. Complessivamente abbiamo erogato queste risorse a circa 50 mila aziende, nel senso che alcune hanno avuto ovviamente più finanziamenti, ma sono state oltre 50 mila, quindi numeri enormi, numeri che hanno generato un investimento complessivo di oltre un miliardo di euro e che hanno cercato di portare avanti quella che è l'agricoltura abruzzese, quello che è un settore primario che è trainante. Numeri molto significativi e anche complessi da illustrare, grande attenzione pure ai giovani con l'ultimo bando che ha permesso di finanziare ben 302 giovani con le loro aziende. Abbiamo messo a disposizione 21 milioni di euro, abbiamo finanziato 321 aziende e la vera novità è un'altra, è che in meno di un anno, o meglio bando scaduto a febbraio, a luglio abbiamo fatto le gradatorie e a dicembre abbiamo fatto gli anticipi, cioè in nove mesi, cosa che non si è mai verificata nella regione Abruzzo, soprattutto in agricoltura, in nove mesi abbiamo erogato alle aziende i soldi a disposizione per un bando sui giovani.